Da oggi fino al 17 maggio, ovviamente sempre indossando le mascherine e rispettando il distanziamento sociale, scatta la fase 2 dell'emergenza coronavirus che prevede alcune novità rispetto ai provvedimenti in vigore fino a ieri. Da questa mattina è consentito incontrare i congiunti, coniugi, partner conviventi, persone unite da uno stabile legame affettivo e parenti fino al sesto grado, ma sempre indossando i dispositivi di sicurezza individuale mantenendo almeno un metro di distanza. Tra le novità anche quella di poter raggiungere in ambito regionale la seconda casa esclusivamente per interventi di manutenzione di emergenza urgenza. Solo per motivi di salute e di lavoro è invece possibile spostarsi da regione a regione. Per quanto riguarda le aree pubbliche rimane in vigore il divieto di assembramento, ma viene consentito l'accesso ai parchi e ai giardini a discrezione del sindaco, ad esclusione delle aree di gioco attrezzate per bambini. Via libera l'attività sportiva o motoria, oltre 200 metri dalla propria abitazione sia individuale o con un accompagnatore per minori e persone non autosufficienti. Ok anche alle sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti professionisti e non professionisti di discipline individuali. Aperti i cimiteri, inoltre per i funerali, le cerimonie da oggi sono consentite con l'esclusiva partecipazione di familiari di primo e secondo grado, comunque fino ad un massimo di 15 persone. I comuni possono riaprire i mercati scoperti, a Sondro la riapertura è prevista per mercoledì solo per la vendita di prodotti alimentari e purché vengano rispettate le misure di prevenzione igienico-sanitarie. Autorizzate le riaperture di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma solo per la vendita da sport o la consegna a domicilio, con divieto assoluto di consumare i prodotti all'interno dei locali. Da domani riaprono anche le librerie. Alle aziende ritenute strategiche, dedicate ad attività di export e i cantieri di edilizia pubblica già operative, da oggi si sono aggiunte le attività di manifattura, costruzioni in generale e commercio all'ingrosso nel rispetto dei codici a teco espressamente autorizzati. Riaperte le concessionarie di autoveicoli, dove è possibile acquistare auto, fare il tagliando, effettuare il cambio gomme e altre attività di manutenzione, ma anche i maneggi, autorizzata la pratica di pesca sportiva e amatoriale e la navigazione di imbarcazioni private.